Musica Sorridi 16 Gianni 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 Non ti preoccupare ci metti una canzone Guarda scena 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 Ma tu che tu hai visto il mio turo? No 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 Sì Ci gianci alla noi Sì Sto chiedo Ci faccio porti al maggio ristorante Ci era una prima Maggio E' tutta posta Ophra doveva Pianco Ma cosa vuole? 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 Ma come ce la faccio? Questa mattina siamo invitati O un bado parte alle 10 andiamo a Econo Ci mangia il ristorante Si? Sì? Sì, sì, sì. Allora Roppe ci ferma una liberatora. È bel capitano, giusto? È liberata lui? No, io vi sto giocando a Santa Maria. Santa Maria è questa roba, non lo fai a spiegare. No, no, con Santa Maria lo avete. Allora, sei un grande, trovi uno sponsor per l'anno prossimo. Il Maddaloni è praticamente fuori dalla lotta play-off. Al Cusavelino invece servono punti salvezza in questa sfida. Qui a palestra a Brancaccio, i peloni di casa provano a spiegare sull'acceleratore nei minuti finali ma non trovano il gol che arriva. Invece sulla sponda Irpina, grazie a questa conclusione, che sarà uno dei protagonisti del match. la risposta del Maddaloni, la parata. Poi ancora in avanti il Cusavelino. Il tentativo insistito dei peloni di casa, la parata, su questa conclusione per Irpini. Botta e risposta fino al gol del pareggio, firmato da Capobianco con questa conclusione di esterno destro. Il Maddaloni non riesce a trovare la porta, pur spingendo sull'acceleratore. Il Cusavelino invece sfrutta le ripartenze nella ripresa. Ancora una chance per i peloni di casa, con questa posizione che finisce sul fondo. Poi, attenzione qui a questa iniziativa del Cusavelino, questo spedio destro all'incrocio dei pali, che vale l'1-2. Il vantaggio per gli ospiti con il Maddaloni, che non riesce più a rientrare in partita, nonostante le continuazioni dei padroni di casa. Si salva in estremis anche in questo caso la difesa del Cusavelino con il portiere. Come dicevamo, le ripartenze micidiai di Gallio Telfiore affondano il Maddaloni. Qui ancora una rete, altra chance per il Maddaloni con il salvataggio in estremis. Qui il tentativo e la palla che finisce sull'esterno della rete. e arriva invece il gol ancora per il Cusavelino con Gallio Telfiore. Nulla da fare per il Maddaloni calcio 5 nel finale di partita. Altra occasione per Irpini, ancora con questa ripartenza e ancora con Gallio Telfiore. Bomber del campionato a segno. Qui si salva nuovamente il team Irpino e arriva il gol con questa conclusione alla distanza. Finisce così anche la partita. La squadra ha giocato bene, soprattutto nel primo tempo. solo che siamo stati anche molto sfortunati. Abbiamo trovato un portiere in forma dall'altra parte. Infatti, se vediamo le statistiche abbiamo fatto molto più tiri rispetto agli avversari. Per il secondo tempo ci siamo sbilanciati e abbiamo preso gol di partenze. Null'altro. alla prossima! Abbiamo trovato un esperimento! Alla prossima! Deci! Gli